Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89 Siamo tornati su Brawl Stars Signori, oggi una valanga di mi piace Perché per la prima volta vado a provare Piper insieme a voi Piper, non lo so quello che dice perché tutto in inglese Non ne ho idea, spero che prima o poi esca anche su piattaforme italiane Android, iOS e tutto quello che vi pare Signori, inutile dirvi che ci andiamo a fare una Bounty Shotting Starz Che spero che sia quello che dico io E ci andiamo a prendere Piper potenziata al massimo Calcolate che non l'ho mai giocata, è la prima volta che la gioco E la gioco insieme a voi, io sono emozionato perché se adesso non faccio 578 kill Ci rimango veramente, veramente male Ma ci rimango malissimo ragazzi Orca miseria regà Avete visto a quello che cosa io ho fatto? Sì, io spero che voi abbiate visto bene Quello che ho fatto Regà, praticamente lanciamo le Kame Kame A Cioè regà, mo fate quello che vi pare No, questa mi serve dopo Non so che cosa stia succedendo lì Ma quello che sta succedendo mi pare abbastanza simpatico Ok, è shottato malissimo Facciamo così Era la prima volta che la usavo ragazzi Quindi non so bene di precito quello che è Via, via, via È lenta La ulti la devo capire bene Però, secondo me Ci sta da panico Ok, devo sicuramente fare dei prevede qua Madonna ragazzi Mamma mia, ma quanto è bella Quanto è bella Cioè abbiamo uno fermo Ma diciamo che fra me e quest'altro Oh, mamma mia È un'emozione Che sale piano piano Boom È troppo forte sta cosa È troppo forte Qualcuno No raga, cioè Stiamo a scherzare Stiamo a scherzare Perché veramente è Straordinariamente forte ragazzi È fortissima L'ho detto L'ho detto noi ci abbiamo Uno fermo Purtroppo Il mio sta subendo Delle Uh, volevi Volevi Mortacci di te Di che lo volevi Perché lo volevi Ok Devo fare molta attenzione Ragazzi Devo fare molta attenzione Perché in realtà Ok Quindi quello Gli ho tirato una scarafanata Ragazzi Vai Presa comunque Sicuramente l'ho presa Una volta Una hit Gliel'ho data I miei purtroppo Stanno avendo Dei problemi Lungo il cammino Questo È chiaro Ok Dai e Johnny 20 secondi Ok Bene 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 così Dai e Madò Regà È troppo forte Regà Piper è veramente È Troppo Forte Regà Ma che cazzo Questo Dio È fortissima Piper Star player Ho fatto un casino Regà Ma veramente Abbiamo Devastato Gli animi Di questi ragazzi Cioè veramente Non ci hanno Capito niente Regà Ma è stata È fortissima Io l'ho sempre detto Che Piper È troppo Troppo Forte Ora che ce l'ho Sicuramente la ne feranno Aspettate un paio Di giorni Dico no Guardate che Ciccio che me l'89 C'ha Piper Togliete Togliete tutto Chiudete tutto Chiudete l'internet E calcolate che abbiamo Giocato praticamente In due Questa partita Cioè la partita passata Che secondo me È notevole Ragazzi Cioè Regà ma state a vedere Che sveglie Che tira Piper Cioè Io Non so se state notando Le sveglie Che tira Piper Tronzo E lui Mi fai la ulti a me Che poi non ho neanche capito Come l'hai caricata Così velocemente Però Per il resto Facciamo così Mamma mia ragazzi Porca miseria Che stecche Regà Che stecche Brock ancora non ho capito Come fa Ave c'è tutte ste ulti Una appresso All'altra Io non l'ho capito Però Sai com'è BAM Presa Regà Sei messa a piangere Io ce l'ho sentita Calcolate Io l'ho sentita Mettersi a mettersi No raga Basta capire un attimo Come spara Con Piper Fai Le grandi E Cioè Ragazzi Fai le grandi Headshot Ragazzi Fai le grandi Headshot Veramente Guarda quello Stronzo Che danni Che mi fa Incredibile Pure Brock Ragazzi E' fantastico Diciamo che Il Piper Dei poveri Se si può chiamare così Ah no Ma quello è mio Ma baffanculo Allora Ma l'ho preso Regà La ulti Sinceramente La devo Ancora capire Tra l'altro Ho fatto fuori uno Da nutare La ulti La devo capire Veramente Non l'ho ben capita Ma Ok Addio Regà Ma è una strage Porca miseria È una strage È una strage Regà C'è State notando Dove Dove sparo Sparo Guarda Voglio provare Fà Così Non ce l'ho Assolutamente Riuscito Nel mio intento Però C'è da capirlo Almeno C'ho provato Senti Bro Capite questa Battana Facu Mamma mia Ragazzi Che sveglie Che tiro Ma state a vedere Le sveglie Che tiro Regà Guarda quella Che sta Incazzatissima Su di me Ma stiamo Incazzatissima Regà Attenzione Che Brock Ha deciso Di sbrocchiare Brock Guarda che Prossima volta Via Ok Forse l'ho capita L'ulti Orca merda Oh vai Uuuu Ragazzi Dai che forse L'ho capita L'ulti Vado Regà È un'emozione Incredibile Non Cioè È fortissima È fortissima Piper Ragazzi Fortissima È una cosa Micidiale Io penso pure Guarda voglio provare Anche questa qua Tra l'altro Abbiamo una cassa Da aprire Ma direi che la possiamo Aprire la prossima volta Voglio fare Quello là delle gemme Dove di solito Uso mortis E Secondo me Quando li faccio Arrivare proprio a toccare Aspetta però Sta mappa Non va bene Per lei Ragazzi È piena Piena di muri E sicuramente Avremo dei problemi Parecchio grandi Ok A prende L'abbiamo presi Però Però non è Loro vedete Ci hanno C'hanno coso Che sicuramente È meglio Sicuramente È molto meglio Ragazzi Infatti ci stanno tenendo Un po' Alle strette Vedete pure lei C'ha Te Merda Non sei altro Aiutatemi Aiutatemi Che se no Sono morto Aiaiaiaiaiaiaiaiai Mamma mia signora Longari che dolore Astruzzo ma primo o poi Cioè t'ammazzo comunque Tra l'altro mi sembra che uno dei nostri È fermo Grandissimo arsi altro Vai 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 Prendile 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 Ma che sei male Mamma mia che ho fatto Ho fatto una cazzata Ho fatto una cazzata Questo me corre indietro Oh, versa Madonna, regà Oddio, l'ho lisciato tantissimo No, no Non mi tocca, non mi tocca Ah, ragazzi, cazzarola Ho voluto un po' troppo Bravi, bravi, bravi Che comunque state resistendo alle forze nemiche Ma Un missile terraria gli ho attirato Oh, regà, eh Vabbè Ma l'ho uccisa Ragazzi, l'ho uccisa Troppo forte questa stronza Bum, bum, bum Bum, ragà Spider, beccate questa Aia, sono morto un'altra volta Oddio, che è successo? Ma dai, io mi sto a divertire E i miei muoiono Mannaggia a voi, mannaggia Se me lo dicevate, non facevo lo stronzo, no? Eh Vai Eh, come Come vogliamo cavarcela adesso? I miei l'hanno capito che stiamo perdendo Cioè, non lo so Oh Baby Dai, ragazzi Vi ho dato una possibilità incredibile Ammazzateli tutti Fate come cazzo vi pare Ma io la possibilità ve l'ho data, eh Anche se la perdiamo Ed è Probabile, secondo me Che l'andiamo a perdere A meno che Io non faccio così Sì Porca puttana Merda Porca miseria, ragazzi Purtroppo È andata così Che vedevo di Vi posso dire niente Vi posso dire niente, ragazzi Ci ho provato È stata divertente Non ce l'abbiamo fatta Ma sì Ma infatti Star player, so io Purtroppo Ho trovato un team Insomma, no Non era un po' Era un po' così così Ma comunque La modalità Di questa Piper Oggi Con queste mappe È questa Perché quell'altra Ha troppi cunicoli Troppe strettoie Quindi non ho il tiro libero Ci ho fatto le stragi comunque Però Diciamo Questa è Tutta aperta Oddio Qua non è che ci abbiamo Una squadra incredibile noi Perché Se ci arrivano vicino Ragazzi Ci fanno Dei danni Pressoché Ci ammazzano Praticamente Tu dove vai Tu dove volevi andare No, fammi capire Do dove volevi andare Ricarica molto lentamente Comunque Piper Questo c'è Comunque da dirlo Vaffanculo E more C'è Eh A rompe le palle Mamma mia Ragazzi Mamma mia Qui li Terremo comunque Lontani Per carità Però Ok Me l'hanno fatto Tornare indietro Vedete ragazzi Se loro adesso Ci attaccano Ci fanno parecchio male Raga eh Ci fanno parecchio male Anche perché Anche loro hanno parecchie ulti Interessanti Mamma mia C'è raga Avete visto quello che io ho fatto Sì No Questo è meglio che La ulti ripeto Eh Mamma mia Mamma mia Non è facile da utilizzare Uh Però che soddisfazione Ai 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 Signora Longari Che dolore Guardali come sparano da lontano Boom Headshot Vabbè raga Basta Fattore Ai 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 Ho detto un po' di prevaid E qua Non è che fai i buchi per terra Qua Spacchi le persone a metà eh Bravissimo collega La mia ulti Se non attaccano In certe maniere È pressoché inutile Però Come vedete C'è altro Madore Che headshot Quella Quella io la chiamo headshot Poi fate quello che vi pare Ma Cavolo Qua potevo effettivamente Togliermi dalle palle Cosa che Non ho proprio fatto eh Eh ragazzi Quanta violenza Ci sta arrivando Sopra al nostro Croppone Tanta Ok Quindi questa Abbiamo recuperato eh Abbiamo recuperato Stiamo recuperando Con calma Ok Johnny 23 a 24 Stanno Un po' sopra loro Purtroppo Non ce ne posso far mica niente Ci ho puto far niente Ragazzi Non ci ho puto far niente Ma va bene Ragazzi è fortissimo Ma è normale che sto star player Vi ho detto che purtroppo Mi stanno a venire Le squadre un po' De cacca Eh ma dai su Dai su Voglio vincere Almeno l'ultima La fate vince Comunque questo gioco Ragazzi Se vede Fa perdere Non ci stanno Cristi Non ci stanno Santi Vi fa perdere Comunque Poi ve l'avevo detto Se loro ci schiacciavano Se non eravamo Forti 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 Tutti quanti Andavamo a perdere Se lui adesso È il primo Gioca Se dovesse Ipoteticamente Giocare Dovremmo vincere Facile Lui potrebbe essere Un problema Effettivamente Da colpire Potrebbe Ripeto Potrebbe A male Gli ho fatto male Non so Do cazzarò La stanna Pure quell'altro Credo che sia morto Malissimo Ne sono abbastanza Sicuro di questo Eh Non gliela faccio Tanto a colpirlo Quello Devono essere anche Bravi Parecchio i miei Parecchio 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 Io comunque Gli devo stare vicino Quello l'abbiamo ammazzato Ok Eh No Vai Vai così L'ho colpito Comunque Ok Regà Qua Mi tocca Fa i miracoli Io non so come Farò A fa Sti miracoli Vedremo Comunque I danni Prepotenti Glieli faccio Non è che Non glieli faccio C'è il primo Che secondo me Il primo Secondo me È anche un po' Troppo Cattivuscio Per quello Che mi riguarda A me Bravo Vedi che pure lui Ok Preso No non è vero Non l'ho preso Attento Ho preso Non mi pare Madonna mia Le hit Importanti Ragazzi Bello Bello Guarda che te prendo Ti massacro Poi a voi A te A corre Fa un culo Ragazzi Qua Sarà difficilissimo Da vincere Sta partita Sarà davvero Difficile Da vincere Ma veramente Questo sta fermo Prendi i schiaffi Ancora non ho capito Che cosa sta facendo Fam mori A FAN CULO E il primo Come vi ho detto Purtroppo Non è che sia Tutta sta roba Io i danni Comunque Li sto facendo Ragazzi Vi dovete togliere Però dalle loro ulti Perché Capite bene Che Tanto ora Ci attaccheranno Prepotentemente Ragazzi Perché devono Comunque Recuperare La partita Io faccio così Bene E VAMMORI A FAN CULO E yes Signori Una strage Una strage Ragazzi Signori Che cosa vi devo dire Se il video vi è piaciuto Pollicino in su Commentate Condividete Se non siete iscritti Iscrivetevi Al prossimo appuntamento Con il vostro Incequemano89 Bella Ciao ciao Piper Ma do Finalmente Le gaffe Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie a tutti.